Buongiorno a tutti, bentrovati in questo nuovissimo video. Un saluto a tutti da Max e parliamo di curiosità, alta curiosità, perché qui abbiamo sfornato il primo treno passeggeri più lungo del mondo, qui insomma parliamo anche di record, no? E questo primo viaggio verrà fatto in Svizzera per questo treno, che è un serpentone di quasi, beh insomma è strano anche dirlo, due chilometri di treno signori, due chilometri, cioè se io devo attraversare una carrozza, carrozza per carrozza e andare fino al capotreno per dirgli qualcosa, niente, sarà una mezza impresa, comunque. E questo è un convoio ferroviario composto da ben 25 unità multiple Capricorn con 100 carrozze che insieme hanno raggiunto l'interminabile lunghezza di, non proprio due chilometri, ma 1910 metri, che sono veramente tantissimi. E ha percorso nel cantone svizzero dei Grigioni 25 chilometri tra Preda e Albeno sulla tratta di montagna inserita nel patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. La corsa da primato ha portato il treno su un impegnativo percorso alpino e durante i 45 minuti di discesa il dislivello è arrivato a quasi 800 metri. Sono stati tra l'altro attraversati due tunnel elicoidali e il famoso viadotto Landwester, che è nient'altro che un ponte in pietra mozzafiato sopra la gola. La composizione del record del peso di 3000 tonnellate era guidata da ben 7 macchinisti, mentre a bordo si trovano anche 21 tecnici e oltre a 150 invitati che facevano da, insomma, da passeggeri. La ferrovia retica ha inoltre allestito un'area alibita a Festa Borgen per oltre 3000 persone che hanno assistito all'evento via streaming. Insomma, potevano vederlo sia proprio effettuando un viaggio sopra il treno che a livello web. L'occasione per il tentativo del record del mondo è il 675esimo anniversario delle ferrovie svizzere che si festeggia in quest'anno. Stando al direttore della ferrovia retica Renato Fasciati, l'azienda ha voluto realizzare un'impresa pioneristica proprio per celebrare questa ricorrenza e l'evento ha avuto l'obiettivo di attirare l'attenzione sui grigioni e su tutta la Svizzera promuovendo così il turismo. Eh sì, turismo anche online tra l'altro, insomma, per la curiosità gente che paga fior di quattrini pur di vedere qualcosa di, possiamo dire però, straordinario. E oltre che lo sforzo è andato a buon fine, la ferrovia retica troverà spazio nel Guinness dei primati, come giusto che sia. Questo è tutto signori per questa notizia di assoluta curiosità. Vi ringrazio per l'ascolto e noi ci sentiremo alla prossima.